Alla luce del continuo incremento di casi di positività di Covid-19 su tutto il territorio dell'Isola d'Elba, a Capolivri è stata emessa l'ordinanza sindacale con cui a titolo precauzionale è disposta la chiusura e la sospensione dell'attività degli impianti sportivi di tutto il territorio comunale di Capolivri, nonché la chiusura dell'attività dove si svolge somministrazione di alimenti e bevande, tutti entro le ore 21. Il provvedimento, valido fino a nuove disposizioni e con effetto immediato, prevede la chiusura e la sospensione precauzionale delle attività all'interno degli impianti sportivi del Comune e nello specifico della palestra comunale nuova, della palestra pesistica, del complesso del campo sportivo di località Vaccarelle, disposta anche con effetto immediato la chiusura di bar, pub ed enoteche entro e non oltre le ore 21, ad eccezione dei soli ristoranti. Per il 31 dicembre è disposta la chiusura dell'attività di ristorazione come ristoranti, bar, enoteche e pub entro e non oltre le ore 1 del primo gennaio. Il Comune di Capolivri fa sapere anche che le misure potranno essere rese più restrittive a partire dal 31 dicembre, a seconda dell'andamento della curva epidemiologica di carattere locale. È inoltre disposto l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto, nella zona bianca, nonché il rispetto delle norme del mantenimento del distanziamento sociale, in particolar modo nelle attività di servizi di ristorazione. E c'è anche il divieto di assembramento. Restano ferme tutte le misure nazionali relative al contenimento del rischio di diffusione del virus.